Tutto pronto nell'antica piazza del mercato di Viareggio lungo la Viareggia per la tradizionale Fiera del Ciottorino, manifestazione ricca di storia e cultura che quest'anno si svolge dal 14 al 25 marzo in uno scenario che riflette l'antica identità della comunità locale. Un appuntamento questo iniziato nel 1974 per recuperare i ciottorini, i piccoli contenitori di terracotta tipici della festa dell'Annunziata. A organizzare la fiera, come sempre, è il Comitato Vecchio a Viareggio. Quest'anno abbiamo una diversa disposizione degli stand, avremo sempre chiaramente lo stand dedicato ai prodotti gastronomici, abbiamo lo stand dedicato ai libri, avremo uno stand, una novità, uno stand dedicato a un laboratorio per i bambini organizzato dalla Cartè e poi ci sarà anche spazio per la Crea, come al solito, e poi le solite giostre che abbiamo tutti gli anni. Lo stand di Pingi in Ciottorino c'è? Sì, lo stand di Pingi in Ciottorino che ormai fa parte della nostra tradizione, c'è anche quest'anno, sempre dedicato alla nostra compianta amica Roberta Bartali, ci sarà anche quest'anno. Grazie. 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 Grazie.